Benvenuti, in questo nuovo video vedremo come realizzare il nostro primo programma basato su OpenCV. Il programma ci permetterà di caricare e di visualizzare a schermo un'immagine. Il video è realizzato in ambiente di sviluppo Visual Studio 10 Express sotto Windows. Il codice scritto può essere comunque tranquillamente compilato sotto Linux e vedremo in fondo al video qual è il comando da inserire nel terminale per poter compilare il file e quindi eseguirlo. Apriamo il nostro ambiente di lavoro Visual C++ 2010. Andiamo su File, Nuovo, Progetto. Il progetto avrà nome Simple Viewer perché di altro non si tratta che di un semplice visualizzatore di immagini e il file andrà salvato nella cartella Simple Viewer. Il progetto sarà di tipo General e sarà un progetto vuoto. Diamo l'ok e siamo pronti per scrivere il nostro codice. Clicchiamo con il tasto destro su Simple Viewer e facciamo Add New Item. Il progetto è vuoto quindi dobbiamo aggiungere i nostri file. Aggiungiamo un file di tipo cpp che chiameremo ancora simpleviewer.cpp. Sarà il file che conterrà il codice sorgente del nostro programma. Aggiungiamolo. Il file viene aggiunto nel source file del nostro progetto e viene aperto per essere riempito. Iniziamo. Come tutti i software scritti in cpp, la prima cosa che dobbiamo fare è includere i file delle librerie esterne da utilizzare. Nel nostro caso particolare la libreria è OpenCV. Il file che andremo a includere per primo è OpenCV2.core.core.hpp. Andremo a includere un secondo file. HiGuy.hpp. Il primo file fa parte del modulo core e contiene la definizione di tutte le strutture dati principali di OpenCV. È il modulo principale di OpenCV e andrà incluso nella maggior parte, se non in tutti, i software che andremo a realizzare. HiGuy è un altro modulo fondamentale e permette di caricare immagini da disco, di visualizzare immagini a schermo, di caricare flussi video da un file video, oppure di visualizzare, di catturare flussi video da dispositivi esterni come una webcam, come una telecamera FireWire e via così. A questo punto possiamo iniziare a scrivere il codice della nostra funzione principale mail e la prima cosa che andiamo a fare è quella di dichiarare un oggetto di tipo mat. Lo chiamiamo image. Come ben capirete dal nome, image conterrà i dati caricati da disco, i dati della nostra immagine. L'oggetto si chiama mat, l'oggetto è una matrice. Infatti, le immagini non sono altro che una matrice bidimensionale di dati. Utilizzando una funzione del modulo HiGuy, che si chiama ImageRed, possiamo andare a leggere l'immagine del disco. Nel nostro caso particolare, l'immagine è contenuta nella cartella Devil, in una cartella appositamente creata che si chiama TestData e in onore al rover che è appena atterrata su Marte, l'immagine si chiama Marsocuriosity.jpg. A questo livello voi potete inserire qualsiasi patch di qualsiasi immagine che volete caricare. OpenCV è in grado di aprire immagini tipo JPEG, immagini TIF, immagini PNG e altri tipi di immagini. Quello che dobbiamo fare però è inserire un controllo per verificare se l'immagine è stata effettivamente caricata. Possiamo aver scritto un patto sbagliato oppure possiamo aver fatto caricare a OpenCV una struttura dati che lui non conosce, immagini ad esempio realizzate con Photoshop oppure immagini di qualsiasi altro tipo, differente da quello che lui è in grado di leggere. Se questo è il caso, usciamo dal software ritornando il valore meno. In caso contrario possiamo visualizzare l'immagine a schermo utilizzando la funzione ImageShow del modulo iGuy. La funzione vuole come primo parametro il nome della finestra che visualizzerà l'immagine e come secondo parametro l'immagine da visualizzare. E terminiamo la nostra funzione. Il codice così scritto vi anticipo che non funziona. Infatti una volta visualizzata l'immagine subito andiamo a fare un retorno 1 e la funzione esce terminando il programma e quindi non dando il tempo all'utente di visualizzare a schermo quello che effettivamente abbiamo caricato. Quello che serve a noi è un comando di attesa. Il comando di attesa si chiama WaitKey e permette di aspettare un tempo ben definito. Scrivendo WaitKey 100 il software attende 100 millisecondi e poi va avanti. Questo non è quello che vogliamo. Noi vogliamo che il software attenda un tempo infinito e quindi possiamo mettere 0 oppure lasciare vuoto il parametro. In questo caso OpenCV farà in modo di attendere all'infinito che l'utente prema un tasto. Siamo pronti? Possiamo compilare il nostro software ed eseguirlo. Come mi aspettavo l'ambiente di sviluppo ha ritornato un errore. L'errore è l'errore classico che viene fatto le prime volte che si affronta la programmazione con OpenCV o la programmazione in generale in ambiente Visual Studio. Semplicemente non abbiamo detto dove andare a cercare il file core.hp. Ogni volta che noi utilizziamo un modulo di OpenCV dobbiamo dire all'ambiente di sviluppo dove andarlo a cercare. Quindi clicchiamo ancora con il tasto destro sul Simple Viewer e clicchiamo su Properties. Andiamo su WC++ Directories. Nel campo Include Directories selezioniamo Path ed espandiamo e premiamo Edit. Aggiungiamo una nuova riga premendo il tasto apposito e clicchiamo sui puntini. In questo modo si apre un Folder Browser. Andiamo in C, Devil, OpenCV 2.4.2 che è la cartella dove abbiamo installato OpenCV, OpenCV 2. I moduli, i file di inclusione dei moduli sono contenuti nella cartella Modules. Clicchiamo su Modules e clicchiamo su Core e quindi su Include. In questo modo abbiamo detto all'ambiente di sviluppo dove andare a cercare il file che appartengono al modulo Core. La stessa cosa dobbiamo fare per il modulo iGuy. Quindi ancora C, Devil, OpenCV 2.4.2, OpenCV, Modules, in questo caso si parla di iGuy, Include. Diamo OK e diamo OK. Come vedrete non avremo più l'errore relativo ai due file core.htp e iGuy.htp. Però ve lo anticipo già, avremo un altro tipo di errore. In questo caso non si tratta più di un errore di compilazione ma si tratta di un errore di linking, ossia il nostro ambiente di sviluppo, il nostro linker, non sa dove andare a trovare il codice sorgente della libreria OpenCV. Il codice già compilato che appartiene alle DLL di OpenCV. Ecco l'errore. Clicchiamo ancora su No. Come non sa di che tipo è, come è fatta la classe MAT. Andiamo nella B. Quindi clicchiamo ancora con il destro su SimpleViewer, andiamo su Properties, Library Directories, ancora Edit, creiamo un nuovo path, clicchiamo su i tre punti, C, Level, OpenCV.4.2, OpenCV, Build. In Build ci sono tutti i file precompilati della libreria OpenCV. Nel nostro caso vogliamo i file a 32 bit, quindi andiamo in Visual Studio 10. E selezioniamo la cartella. Ora abbiamo detto all'ambiente di sviluppo dove trovare i file. Non gli abbiamo assolutamente detto quali sono i file da trovare. Allora andiamo ad aggiungere i file di libreria dei due moduli che abbiamo utilizzato. Tutti i file della libreria OpenCV utilizzano la medesima convenzione per il loro nome. Nel nostro caso dobbiamo trovare il file del modulo Core, quindi inseriamo il prefisso OpenCV underscore Core, che è il nostro modulo, la versione corrente della libreria, punto lib. Per il modulo iGuy è analogo. Qui prefisso OpenCV underscore, il nome del modulo iGuy, la versione, lib. Proviamo ancora ok e premiamo ok. Eseguiamo la nostra applicazione e se a questo punto non abbiamo commesso errori, la nostra applicazione ci darebbe permettere di visualizzare l'immagine che stavamo cercando. Ecco l'applicazione che parte ed ecco le immagini che abbiamo caricato. Come vi dicevo è un'immagine di Curiosity che sono dei monti marziali. Come vedete l'applicazione sta eseguendo e per chiuderla possiamo premere un qualsiasi tasto. Premo Q e l'applicazione esce. Abbiamo così terminato con Windows. Come vi ho promesso, ora il comando per compilare il nostro software sotto Linux. Il comando è il gcc. Il file di input, quindi è simpleviewer.cpp. A questo punto dobbiamo dire quali librerie utilizzare. Sotto Linux basta dare il comando "-l", la libreria, una è core e la seconda è fileguide che sono i due moduli che abbiamo incluso del nostro file. A questo punto dobbiamo semplicemente dargli il file di output, quello che chiamiamo simpleviewer. Premete invio e con questo semplice comando potrete compilare il nostro software. Siamo giunti alla fine di questo video, vi do l'appuntamento ai prossimi. grazie.